Rosario Bifulco, consigliere di Astro Lombarda, ha descritto come molto positiva l'esperienza di Meet in Italy for Life Science, l'evento dedicato alle scienze naturali in corso a Milano fino al 2 di ottobre. Il Meet in Italy si è rivelato un grande successo, ci sono più di 330 partecipanti da 25 paesi. Life Science deve essere, secondo noi, una delle filiere strategiche fondamentali per il nostro paese. Noi, oltre che le azioni che noi portiamo, aspettiamo che il paese decida di investire e decide di investire direttamente attraverso finanziamenti, ma decide anche di investire indirettamente, ad esempio, sul sistema sanitario, innovandolo e prevedendo degli spazi per l'innovazione. Quindi ci aspettiamo che da questo Meet in Italy parta un'ulteriore spinta verso il settore della Life Science.